Per T-Reporter vi presentiamo una serie di scatti del temporale che ha colpito la provincia di Lucca nella notte. Il classico temporale estivo è diventato per molte persone una vera e propria occasione per fare filmati e foto dal forte impatto visivo, quindi non solo un effetto refrigerante per la calura agostana ma anche un ricordo da mettere nel cassetto o nel proprio book personale. Partiamo dalla Berzilia con il video girato da Giacomo Francesconi. Proseguiamo con le foto scattate a Saltocchio da Fabio Gigli. Concludiamo con lo scatto di Matteo Bertuccelli da San Vito. Grazie a tutti per aver guardato il video.